Il sbaglio è inconfuttabile ed è politica, non è giudiziaria. Fontana è stato il governatore che ha più rivendicato l'autonomia e la meno esercitata. Mentre lui chiedeva provvedimenti, gli altri li assumevano. Va aggiunto il fatto... Quindi è uno scaricabarile quello che... Evidente, anche il processo di lockdown che la Lombardia ha sollecitato. Io questo lo ricordo, in quei giorni Zingaretti era malato, quindi ho seguito direttamente la questione. Il processo di lockdown è stato tutto sulle spalle del governo. Siccome c'erano le categorie produttive lombarde, diciamolo, che dicevano meno si chiude, meglio è. Fontana che diceva chiudete, chiudete, ma chiudete, chiudete chiedendolo a Roma, non assumendo direttamente dei provvedimenti. Poi la stessa cosa si è rovesciata nell'Aprite-Aprite, perché nell'Aprite-Aprite non ha mai assunto un'iniziativa che andasse in quella direzione e ha sempre chiesto in qualche modo che lo facesse il governo. Condotta molto diversa, io qui non voglio fare neanche questione di segno politico, da quella che ha tenuto per esempio lo stesso Veneto. Lo stesso governatore Zaglia, sì sì, l'abbiamo anche seguito in tutti questi mesi.